Motta di Livenza, la figlia prediletta della Serenissima e Motta Commercio, presentano Giovediamoci! Accendi i tuoi giovedì sera di giugno e luglio nella suggestiva location del centro storico Liventino. Tra vetrine cintillanti, balli, canti, mostre e tradizioni. Il tutto in una grande magia, che solo una città d'arte come Motta di Livenza vi saprà regalare. Giovedì 12, grande serata musicale. Grazie.